A lanciare l'allarme era stato proprio lui, abbaiando insistentemente ed attirando l'attenzione di un passante. Il fedelissimo cane Bubo aveva così consentito la scoperta del corpo senza vita di Tiziano Birra, il aclosciar dall'animo gentile che dal canton ticino in Svizzera aveva scelto Arezzo per vivere. Il cadavere era stato ritrovato nella rullota nella quale Tiziano e Bubo vivevano da tempo e che tra il dicembre 2022 e il gennaio successivo era stata devastata, assassata da una baby gang. Il cagnolone adottato da Cucciolo quattro anni fa era stato così portato al canile di Arezzo. Non ha dato segni di malessere, ha cominciato a uscire regolarmente tutti i giorni con i dipendenti, noi volontari e niente, è qui da noi coccolato, sta bene. Quindi state tranquilli tutte le persone che sono state veramente tantissime che ci hanno chiamato per sapere di Bubo ed è stata anche una bella cosa vedere che Arezzo è così attenta verso le persone che sono soli, diciamo. Vuoi anche per la presenza di Bubo questa solitudine forse è stata un pochino meno accentuata. Adesso si spera che appena sarà possibile qualcuno possa adottarlo, dandogli quell'affetto che ha perso con l'amico Closciart. Chi fosse interessato può chiamare in canile e prendere un appuntamento per un colloquio anche perché è un cane diciamo particolare nel senso una taglia grande, comunque sia un pastore quindi cerchiamo per un'adozione molto consapevole di persone che siano motivate non dalla sua storia ma che si rendano conto che tipo di cane che è.